Buongiorno, buongiorno a tutti. Un po' di aggiornamenti circa gli ultimi eventi di questa settimana. In particolare ricordiamo che ieri pomeriggio avrebbe dovuto esercitarsi la scelta dei nuovi posteggi da parte degli operatori che hanno le loro postazioni di vendita in via Bruno Buozzi nel mercato di Andrea e tale scelta di fatto è stata chiesta fosse rinviata a causa di una incresciosa situazione che si è venuta a determinare, in pratica veniva chiesto agli operatori di operare una scelta su una planimetria che mai prima di allora avevano avuto modo di vedere né tantomeno gli fosse arrivata attraverso la PEC unitamente alla convocazione arrivata peraltro un paio di giorni prima del giorno della scelta. Quindi la quasi totalità degli operatori ha deciso di non operare la scelta, di chiederne il rinvio e di avere la possibilità di verificare sul posto quali siano effettivamente le superfici disponibili all'interno del mercato. Ribadiamo che la proposta delle sigle di rappresentanza in testa a casa ambulanti è stata quella invece di trasferire il mercato in un'area adiacente e sarebbe stata la soluzione più adeguata, più conforme anche ad aspetti normativi ma soprattutto la più gradita anche perché quello che vi dirò ora è molto correlato a questa scelta, è per nulla trascurabile. Bene, io poco fa ho terminato l'incontro con il dirigente del settore finanze del comune di Andrea, il dottor Domenico De Nigris che conosco da decenni, peraltro è stato anche assessore alle attività economiche nelle consigliature precedenti, quindi ritrovo sempre con simpatia e con affetto. Ovviamente si è reso disponibile con me a fare una serie di verifiche, in verità ci siamo già sentiti nei giorni scorsi ed oggi abbiamo appurato nel merito quello che accadrebbe anche per la questione relativa ai mercati e non solo per i mercati, ricordiamolo che la questione del canone unico patrimoniale di cui mi appresto a parlarvi riguarda anche le occupazioni esterne ai pubblici esercizi, per esempio i famosi The Hors e anche lì sarebbe opportuno, e lo stiamo facendo anche per i bari, i ristoranti, le pizzerie, capire che cosa succederà dal primo aprile prossimo, perché il tema di questo mio intervento di oggi è questo. Fino al 31 marzo si è riusciti ad ottenere ancora l'esenzione del pagamento del cosiddetto canone unico patrimoniale che ha sostituito TOSAP e COSAP, TOSAP tasso occupazione suolo pubblico, COSAP canone occupazione di suolo pubblico, sono stati sostituiti dal canone unico patrimoniale. Questo canone unico non è stato ancora applicato perché sempre grazie alle interlocuzioni delle associazioni autonome indipendenti, la nostra con le battaglie che conoscete tutti quanti anche in sede ministeriale, siamo riusciti ad ottenere l'esenzione totale del pagamento del canone unico patrimoniale per tutto l'intero anno 2021 e per il 2020, ricordiamolo, che si è dovuto pagare solo per quattro mesi e mezzo in quanto l'esenzione di fatto era stata sancita dal primo aprile fino al 14 ottobre, quindi il pagamento per il 2020 è relativo solamente a gennaio e febbraio e poi dal 15 ottobre al 31 dicembre. Con il prolungamento dell'emergenza pandemica al 31 marzo 2022 anche l'esenzione dal pagamento di TOSAP o meglio del canone unico patrimoniale che è sostituito TOSAP e COSAP è stato esteso a tale data, quindi fino al 31 marzo 2022 persiste questa esenzione. La domanda che si stanno ponendo ambulanti, operatori su aree pubbliche, ma anche pubblici esercenti, quindi ristoratori, pizzerie, bar che usano e utilizzano gli spazi esterni alle attività, i famosi TOSAP che peraltro in questo periodo di pandemia sono stati agevolati nella estensione delle occupazioni, quindi in regime di esenzione di pagamento hanno avuto la possibilità di allargarsi anche detto volgarmente, però questo allargamento, questa occupazione di ulteriore spazio vedremo che cosa comporterà a decorrere dal primo aprile del 2022. Lo dobbiamo sapere oggi perché? Perché molti operatori, alcune scelte potrebbero operarle già da oggi, per esempio può esserci un operatore su aree pubbliche che di fronte ai dati che adesso vi dirò potrebbe decidere di lasciare il mercato con decorrenza 31 gennaio 2021 e non trovarsi la sorpresa il primo aprile 2022 quando poi non potrà far più nulla e anche lasciando il mercato sarà costretto a pagare per l'intera annualità. Lo stesso vale per i pubblici esercenti che vogliano rinunciare all'occupazione di quello spazio esterno, magari anche di quella parte occupata in eccedenza sottraendosi appunto al pagamento di una somma che sarà di molte migliaia di euro, così cominciamo già a dare qualche numero. Ecco perché la scelta di ieri degli operatori di non scegliere i posteggi al buio e di avere consapevolezza dipende anche da questo fattore, ma questo poi diventa difficile spiegarlo ad alcuni e non certo agli operatori che invece l'hanno capita ieri pomeriggio molto bene questa cosa e bene hanno fatto a non sottoporsi a quel tipo di scelta al buio. Ebbene, le occupazioni di suolo pubblico cominciamo col dire che con il canone unico patrimoniale si pagherà la superficie effettivamente occupata al di là di quella autorizzata dalle amministrazioni comunali. Quindi una superficie media di 32 metri quadri che sono i 6x5,2, quindi ho i 7x4,5, sono superfici medie di cui qualunque operatore sua repubblica ha necessità, specie se usi l'auto, utilizzi l'automarket, la macchina negozio che ha necessità almeno di 7 metri di larghezza per una profondità di 5 metri e già stiamo a 35 metri quadri superando addirittura i 32, manteniamoci su una superficie media di 32 metri quadri che è quella abitualmente occupata per 52 giornate, ricordiamolo, nel mercato settimanale di Andrea dagli operatori. Ebbene, ricordiamo, facciamo una premessa che mi sembra corretta. Fino all'anno 2019 ad Andrea c'è stata l'essenzione del pagamento dell'allora TOSAP, tassa di occupazione di suolo pubblico, per gli operatori mercatali perché in seguito a una lunga battaglia sostenuta dall'allora sindaco Caldarone, Vincenzo, che saluto, con la nostra proposizione e il nostro fortissimo volere perché si andasse in quella direzione, allora ero in un'altra organizzazione, fu una battaglia storica quella che ho combattuto per ottenere questo provvedimento per tantissimi anni, fino al 2019. Non è stato chiesto il pagamento dalla tassa di occupazione di suolo pubblico agli ambulanti del mercato, ricordiamole le cose, altrimenti poi la memoria storica ci fa dimenticare quello che è il passato e i grossi risultati che si sono ottenuti, le grosse battaglie sindacali. Detto questo, dal 2019, con un provvedimento del commissario straordinario, dottor Gaetano Tufariello, si ripristinò il pagamento di questa tassa di occupazione di suolo pubblico, ci furono degli incontri, concordammo una tariffa molto agevolata, poi di fatto nel 2020, quando avrebbe dovuto essere applicata, è intervenuta la esenzione governativa, quindi di fatto ad Andrea si è continuato a pagare solo la tassa sui rifiuti latari, quindi qualunque degli operatori che occupano uno dei 548 posteggi del mercato settimanale di Andrea, fino ad oggi ha pagato e paga solo la tassa rifiuti, praticamente una somma che si aggira sui 100 euro. Cosa accadrà, non cosa accadrebbe, cosa accadrà dal primo aprile 2022, quando dovrebbe terminare l'essenzione dal pagamento del canone unico e speriamo anche terminerà l'emergenza pandemica, accadrà che per occupare un posteggio di media superficie, perché ricordiamolo che ci sono categorie come la vendita di lampadari piuttosto che di articoli casalinghi che arrivano ad occupare anche fino a 40-50 metri quadri, quindi immaginate queste somme che adesso vi dirò moltiplicate, raddoppiate, cosa possano significare, dal primo aprile 2022 una occupazione media, quindi parliamo dei 32 metri quadri, che poi è una superficie standard a cui devono tendere le dimensioni dei posteggi secondo quanto previsto dalle norme vigenti, si può arrivare a pagare anche oltre 700 euro. Chi fino ad ora ha pagato 100 euro tra canone unico patrimoniale e tari, in un mercato come quello di Andrea, in quel tipo di mercato, fatiscente, trascurato, potrebbe pagare, anzi pagherà anche oltre 700 euro. Se poi andiamo nel settore merci vari e beni durevoli, qualcosina in meno, ma siamo nell'ordine di molte centinaia di euro per l'occupazione di un posteggio, per sole 52 giornate. Allora, ieri pomeriggio, quando a largo grotte, gli operatori hanno protestato, rifiutando di scegliere al buio la destinazione del nuovo posteggio all'interno di quell'area mercatale su posteggi abbandonati, lasciati liberi da altri operatori, perché posteggi inappetibili, assolutamente, come dire, non ambiti, diciamo così, hanno fatto bene gli operatori, perché? Scegliere al buio, senza aver avuto una planimetria preliminarmente, senza aver avuto la possibilità di vederli fisicamente per capire se i propri mezzi e le proprie attrezzature di vendita fossero o meno idonee per entrare e starci in quei posteggi, hanno dovuto fare un'altra riflessione. Perché scegliere oggi un posteggio tappabuchi con la prospettiva che su quel posteggio tappabuchi dal primo aprile 2022 si debba pagare 600-700 euro, non parliamo di 700 euro perché è il settore alimentare, così qualcuno non strumentalizza, però 600 euro per un posteggio tappabuchi? Di fronte a questo tipo di pagamento, che quello stesso comune che ieri avrebbe voluto assegnare quei posteggi con quelle modalità, incasserà dagli ambulanti, da quegli stessi ambulanti, perché quegli ambulanti di fronte a un pagamento di questo tipo da 100 a 600 euro, cioè non da 100 a 600 come fascia, prima pagavano 100, pagheranno 600 euro, perché non devono vantare il diritto di migliorare la propria condizione utilizzando quell'area adiacente che noi abbiamo proposto e che il comune ha condiviso, in primis la sindaca Giovanna Bruno ha dato orientamento di condivisione pubblicamente in un incontro pubblico presso la sala giunta, in una nuova area che fosse perlomeno, perlomeno in prospettiva un auspicio di miglioramento delle condizioni da via Bruozzi a via Tiepolo, pagando 600 euro, ma pagare 600 euro per un posteggio sperduto in un angolo del mercato di Andrea, abbandonato da altri operatori, ma davvero stiamo scherzando? Ma davvero credete che il silenzio che anche in questa circostanza si registra da parte di alcuni poli sindacati che ormai possono solo scrivere quattro sciocchezze sulla carta straccia? Davvero si pensa che si possa restare in silenzio di fronte a tutto questo? Si può pensare di evitare di esprimere una minima voce di dissenso, di pensiero diverso o è vietato questo? In una parvenza di democrazia di palazzo? Questa è la situazione. Le conseguenze? Adesso che gli operatori, tutti gli operatori del mercato di Andrea verranno a conoscenza che dovranno pagare somme di questo rilievo, io credo che il timore peggiore sia quello che si potrebbe assistere ad un abbandono progressivo da parte degli operatori di questo mercato che avrebbe avuto bisogno negli anni di tante operazioni di rivisitazione, di riorganizzazione, di riequilibrio merciologico, anche degli spazi, ma di cui nessuno se ne è mai occupato. E noi che abbiamo sempre sollecitato, io che ho sempre sollecitato questo tipo di interventi, consegnando progettualità reali e a costo zero soprattutto, alle varie consigliature che si sono succedute, noi eravamo i rompiscatole, invece quelli che restavano e continuano a restare in silenzio sono i compiacenti, sono coloro che evidentemente continuano a credere che con i silenzi si possa ottenere di più, ma non per tutti.